Da ieri l'IVA è stata tolta dalle mascherine, dai gialligenizzanti, dai termometri e altri prodotti che fanno parte dell'emergenza Covid. Tra i meandri del decreto rilancio del governo, l'articolo 124 parla di esenzione IVA per mascherine, guanti disinfettanti e tutti gli strumenti di protezione e prevenzione che in questi mesi abbiamo conosciuto contro il coronavirus. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto però è temporanea. Questo tra l'altro dura fino a fine dicembre 2020. Quindi un provvedimento che è comunque temporaneo. Sì, è temporaneo per l'emergenza. Dopo si ventila che potrebbe dare un IVA 5 però non lo so. Un provvedimento questo che le farmacie chiedevano ancora da inizio emergenza. Un pezzo che diciamo che l'IVA sulle mascherine era una cosa vergognosa anche perché era il IVA 22 per cui era un importo molto elevato per un prezzo molto piccolo. E non aveva veramente senso mantenere un IVA 22, poi si poteva fare anche un IVA 4. Cioè comunque ci sono in tante situazioni, cioè bene o male in Italia c'è l'IVA 4, l'IVA 10, l'IVA 22 per cui poteva benissimo essere portata fin da subito a IVA 4. Resta però il problema di reperire le mascherine. Eh beh sul mercato praticamente non ce ne sono. Noi abbiamo quelle che ci manda la protezione civile. Sì, sono abbastanza poche per la richiesta che abbiamo. Cioè generalmente abbiamo spot di mascherine di un centinaio a farmacia una volta alla settimana circa. A contenti poche persone ovviamente. Grazie a tutti.